Ciao amici, oggi Casa Parovista, sono qui per parlarvi di un brevetto incredibile. Abbiamo qui la possibilità oggi di presentare in anteprima nazionale e mondiale su YouTube l'Infra Free, cioè Free Libero in inglese Free Libero, sarebbe infradito Infra Free. Questo mio brevetto è una soletta in carbonio, monocellulare, polimerano di estratto sotto forma di color pelle con bianco in gomma piuma leggera per assorbenza del terreno con lastra di carbonio centrale carbonio. Brevetto Parovista, tra l'altro proprio il brevetto è fantastico perché è un brevetto 007 incredibilmente depositato nella camera di commercio e io vi faccio vedere in un secondo solo come si usa la prima infradito da spiaggia per andare a ballare di sera, essere personaggi si butta via il giorno dopo, non si usa più, costano 10 euro al paio, 10 euro a prezzo veramente di lancio, 10 euro al paio queste solette, ma sono solette che a Miami le stanno usando gli attori a 100 euro al paio. Togliamo la protezione per l'acqua, naturalmente è un po' difficile sempre a volte in diretta avere anche degli inghippi, togliamo la protezione per l'acqua perché questa è una soletta studiata anche per la NASA che con semplicemente la pressione dell'acqua come avete visto ho tolto, qui abbiamo una soletta per andare in spiaggia e non avere più quella rotta.